Allora, Angelo Picardiello, una vittoria convincente quella dell'Avelino oggi a Brescia, ma una squadra dalle due facce sicuramente. Ha detto Castaldo, siamo stati inguardabili nel primo tempo, poi nel secondo c'è stata grande calma, sangue freddo, organizzazione tattica. Purtroppo non possiamo dire convincente, perché il primo tempo fa parte della partita e il primo tempo convincente non è stato per niente. Allora, diciamola tutta, se lo regaliamo a una squadra come la Cremonese, un primo tempo del genere, 4-0 e via andare. Quindi bisogna far tesoro, capire che cosa c'è da sistemare, perché poi quello che del primo tempo non è piaciuto, che anche i migliori hanno avuto delle amnesie, quindi un approccio come se non fossero entrati in campo. Però dico subito che secondo me non è stata rubata la partita, perché mentre nel primo tempo il Brescia ha avuto tante occasioni, ma a un certo punto si vedeva un Bidawi debordante, sulla sinistra si capiva che l'Avellino organizzandosi un po' poteva far male, e ha fatto male a un certo punto. Il secondo tempo è stato addirittura perfetto. Potevamo fare classe, non ci sono parole. Lui, ma anche tutti. Al di là di Castaldo e Bidawi, volevo farti una domanda su Gavazzi, perché l'abbiamo osservato insieme, abbiamo osservato insieme il suo scampolo di partita. Determinante nell'organizzazione, nei recuperi, nei passaggi, non ha ancora lo scatto che gli potrebbe anche permettere di cercare il gol, però un acquisto importante di gennaio, così l'ho definito. Io sono entusiasta di questo breve periodo che è entrato Gavazzi, che è entrato benissimo, non aveva lo spunto, ma non è neanche tentato lo spunto. Ha avuto un posizionamento perfetto, ha fatto da punto di riferimento sia per la ripartenza sia per un pressing molto alto. È stata una componente importante della parte finale della partita. Siccome non vedeva un campo da un anno e mezzo, non c'è che da essere entusiasti, perché la sostituzione non era così tranquilla. Cioè tu togli Bidawi che stava giocando da Dio e metti Gavazzi e ti prendi una responsabilità. Invece in quel momento su quella fascia serviva improvvisamente un Gavazzi e forse Bidawi aveva dato tutto. Bidawi gli darei 9, non so, 9 e mezzo, non so, è stato grandioso, però forse aveva già dato tutto e Gavazzi è entrato benissimo, ripeto, sia nel pressing, ma anche in alcune combinazioni. Ora, per chiudere, ti faccio l'ultima domanda. Perché Avellino è una piazza isterica, come tutte le piazze in cui si vive di calcio, ora bisogna rimanere calmi, tranquilli, pensare sempre prima alla salvezza, poi capire cosa succede nel mercato di gennaio e poi... Dobbiamo pensare quello che si è tentato di dire, ma non si riusciva a dire. Cioè che abbiamo fatto un girone di andata piuttosto sfortunato, in cui la squadra meritava qualcosina in più, in cui la squadra ha incassato infortuni importanti, quindi ci sta un pizzico di fortuna che abbiamo avuto oggi. Quindi guardare la classifica adesso significa guardare una classifica abbastanza veritiera e che permette di guardare al futuro con, diciamo, abbastanza fiducia. Dire che oggi abbiamo fatto la partita perfetta no, come dico, dobbiamo stare attenti ad avere dei periodi di appannamento come quello che abbiamo avuto nel primo tempo, bisogna lavorarci, però non possiamo che migliorare, questa è la mia idea. Grazie.